E' chiaro che storicamente il Movimento non ha brillato a Milano, quindi per il principio di realtà non mi aspetto che questo segno di rinnovamento dia dei risultati strepitosi sin dall'inizio, ma per noi è importante assolutamente dare un segnale di attenzione a Milano. Io ho detto anche in una lettera che ho scritto al Torriere che qualche errore l'abbiamo commesso e non siamo riusciti perché non siamo presuntuosi, se non siamo riusciti a dialogare con i centri produttivi, con alcune fasce sociali anche qui a Milano, evidentemente è colpa nostra, bisogna essere umili in politica.